Ho visto che ti sei dedicato al tuo grande talento di designer e hai addirittura lanciato una proposta internazionale per un nuovo simbolo che ha avuto un discreto successo. E' meglio che torna a scrivere il blocco note. Allora, è perché, ti spiego, secondo me quello lì con le tre righette è scomodo da scrivere. Lo fa cagare, sono d'accordissimo con te. Allora, non fa cagare, il concept è bello, però è scomodo da scrivere e in più ho notato che viene male nei testi normali, nei font. Cioè, assomiglia più a un kanji giapponese che proprio per noi occidentali stona proprio parecchio. Allora mi sono detto, faccio io. Faccio io, risolvo io la situazione. Adesso vi faccio vedere io come si fa il graphic design. Arriva l'ultimo stronzo che legge bitcoin e dice lo sistemo io bitcoin. E allora ho pensato, perché mi sembra che mancasse. Allora, la soluzione più ovvia secondo me è usare il simbolo del dollaro, che è anche una valenza, diciamo, come dire, di evoluzione tecnologica. Sostituzione quasi. Esatto, iniziamo a scriverlo, però adesso come fai? Troppa confusione, troppa confusione. Allora, la proposta attuale non mi piace, allora ho pensato, faccio la Z al con girata, che sembra una S, perché la Z al con girata è una S spigolosa, che richiama il fulminino. Ciò che mi fanno giustamente notare che è uguale al simbolo di Zcash, è specchiato. No, ma io a un certo punto mi arrivano un sacco di notifiche sul telefono e vedo una notifica Twitter down, Twitter down per il troppo traffico. Praticamente questa tua proposta ha avuto un clamore, ha avuto un successo internazionale. Hai visto? Mamma mia, Guybrush, veramente, sono proprio felice di… Ho sposto su tutti, se sono stracciati le vesti. Comunque, il discorso è sempre all'ordine del giorno, perché a quanto pare la comunità non è ancora… Consolidata su un simbolo per i satoshi. Quindi c'è ancora spazio, mi stai dicendo, per delle tue… Ho delle altre idee, che tra l'altro io, dovete vedere come sono scarso io con gli editor vettoriali, che è venuto malissimo tra l'altro. Vabbè, comunque lasciamo… Non lo faccio più, va bene? Li disegno a mano i prossimi. Grazie. SIGLA. 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 Benvenuti amici! SIGLA. 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 Salvador stanno già mettendo sugli alberi di Natale, quelli nelle piazze, stanno già cominciando a tirare fuori i luminari e tutte quelle cose lì. Io sono contento di essere tornato nell'intimità del mio bagnetto cieco, devo dire, dopo il bagno di folla di Lugano, un po' di solitudine. SIGLA. 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 che del resto, come ti viene il bip show da lì, non ti viene. Ho quantito a portata di mano, quindi sono abituato qua ormai, anche nella casa nuova, quando avrò spazio, avrò comunque un bagnetto cieco in cui andrò a registrare. SIGLA. Sographics e soprattutto perché ormai, se non devo togliere lo sciacquone dalle registrazioni del nostro podcast non mi sento a casa insomma allora dai raccontaci tu la parte interessante non sono io che sono tornato del vagliato cieco ma sei tu che sei andato in centro america ebbene si questo è il primo episodio numero 40 della quarta stagione che registriamo dal centro america è partita quindi ufficialmente la missione centro america 2022 come vi abbiamo abbondantemente annunciato prima di partire la prima tappa è El Salvador un intero mese in El Salvador per documentare l'adozione ormai dopo un anno e quattro mesi dall'entrata in vigore della legge quindi ripercorrerò più o meno tutte le tappe fondamentali che ho fatto l'anno scorso per capire appunto se l'addizione se l'adozione è migliorata se l'adozione è peggiorata quali sono i problemi nel paese se ci sono problemi nuovi legati alla bitcoin all'adozione di bitcoin all'implementazione di bitcoin oppure se sono sempre gli stessi tutto tutto novembre in El Salvador è un lavoro che va fatto io sono contento e ti stimo molto perché seguire questo processo di adozione da parte di una nazione intera che sono 4 milioni di persone è una cosa che non era 6 milioni di persone non era una cosa da andare lì una volta tre mesi dopo fare i videini cioè proprio seriamente sei andato lì a vedere adesso come va e sono molto curioso anche io anche io allora prima di partire però con il racconto puntuale di questa mia prima settimana in El Salvador dobbiamo ringraziare bitrefill bitrefill.com il sito dove il bitcoin standard è già qui ragazzi dove potete spendere i vostri bitcoin per acquistare gift card che poi vi permettono di fare acquisti online o nel mondo reale in satoshi quindi un sito fondamentale per chiunque voglia accelerare la iper bitcoinizzazione che noi per primi ad esempio abbiamo usato per acquistare il materiale su amazon necessario appunto alla missione centroamerica 2022 e ibex ibexmercato.com il più forte provider di pagamenti lightning qui in centroamerica in america in generale un'applicazione ragazzi iper professionale che gestisce canali lightning per aziende e per negozi gestendone la liquidità è una cosa impressionante ragazzi usare ibex la vedrete spesso nei nostri video ibex riesce a rendere lightning più veloce della luce guardando il fantastico blog resoconto giornaliero l'hai visto e il vlog l'hai visto? ho visto anche il vlog sì una quantità di contenuti ma quindi non riuscite mai a divertirvi a fare qualcosa diciamo che ci stiamo spaccando il culo devo dire la verità però è bello devo dire la roba incredibile e che essendo noi nerd secchioni ci divertiamo così facendo questo ho visto che però le notizie non sono confortantissime no le notizie non sono confortantissime in effetti devo confermarti questa cosa fammi prima ovviamente dire che a tutti coloro che ancora non dovessero averlo visto trovate il nostro vlog la prima settimana dal Salvador il documentario sul nostro canale YouTube trovate il link nelle note dell'episodio così come da oggi troverete linkati nei nostri episodi anche il link diretto al nostro diario quotidiano in modo tale che possiate essere sempre aggiornatissimi su quello che Ricchi e Laura stanno combinando nel Salvador e niente Guybrush come giustamente hai già avuto modo di capire è stata un po' una doccia fredda il nostro atterraggio nella capitale San Salvador perché ci siamo renditi conto vabbè a parte il giorno iniziale dove appunto siamo incappati nelle festività del dia dello smuertos che vanno avanti qui tipo cinque giorni quindi Halloween qua è una settimana praticamente e dove è veramente tutto chiuso devi provare sai cosa anche la Pasqua dovresti provare la Pasqua immagino immagino mi piacerebbe e dove è tutto chiuso quindi lì non abbiamo proprio potuto acquistare niente perché quando arrivi nel paese del legal tender la tua prima preoccupazione è come cavolo uso bitcoin perché le nostre sim qui sono morte pensa che Guybrush io non faccio il nome ma ho un operatore di quelli scarsetti quando non dei main italiani quando sono atterrato a San Salvador accendo il telefonino e mi arriva questo messaggio da questo operatore che mi notifica magnanimamente che se voglio usare il Romning il costo sarà di 2 euro a mega la madonna porco diazzo 2 euro a mega ti giuro ho fatto lo screenshot la madonna un po' tantino effettivamente quindi diciamo misura di sua zoria per evitare che tu lo spegni cioè così lo spegni subito è vero però ti serve subito la connettività assolutamente così il wallet e le varie applicazioni si attaccano e quindi come hai fatto hai trovato e quindi ho iniziato il primo giorno ad indagare un pochino attorno tutto c'era molto chiuso quei pochi che non erano chiusi non accettavano bitcoin ecco il campanello d'allarme il primo giorno ci è scattato quando andiamo in questo centro commerciale che era praticamente l'unica cosa aperta chiediamo a una farmacia che vendeva sim perché qui nel Salvador le farmacie vendono anche le sim card ve lo dico come notizia da buttare giù con le altre pieghe esattamente la sim card la butti giù bravissimo migliora la connettività ed è retto e praticamente vabbè ci dicono lì che non accettano bitcoin a quel punto perdiamo le speranze però nel mall nel centro commerciale avevamo il free wifi del centro commerciale bella lì ci è venuta fame mangiamoci qualcosa e avevamo visto passando un botto di ristoranti con fuori l'adesivo di bitcoin o di strike entriamo ci sediamo diciamo noi vogliamo mangiare per pagare in bitcoin facciamo tutta questa cosa qui bella lì ci stiamo pregustando la cena ci rendiamo conto che qualcosa non va perché il cameriere non arriva e lo vediamo giù confabulare col cassiere e a un certo punto si avvicina e ci fa ragazzi mi dispiace però noi non accettiamo più bitcoin da mesi ormai gli faccio ma come avete scritto tutto fuori c'è bitcoin scritto acceptan bitcoin paga kick on strike bus del gnao e tutto quanto e lui ci fa e lo so non ci siamo neanche disturbati a toglierle perché tanto qui non ha mai chiesto nessuno di pagare in bitcoin cioè solo voi l'anno scorso neanche perché non c'eravamo stati noi l'anno scorso quindi ok cazzo esatto mi ha detto troppo complicato e troppo poche transazioni abbiamo deciso di cassarlo e io lì ho detto ahia qua mi brucia il culo la conferma definitiva l'abbiamo avuta il giorno dopo quando usciamo finalmente era finito sto cacchio di diale dello smuertos e quindi era tutto aperto e andiamo a tutti i negozietti di telefonia che avevamo visto chiusi il giorno prima entriamo e nessuno accettava bitcoin ma tipo ne avremmo prodati sette nel giro di un quartiere neanche i provider tecnologici brutto però neanche i provider tecnologici al che un cassiere molto gentilmente ci chiede ci fa usare il suo wifi perché tutto questo ovviamente senza neanche google maps capisci perché ti attacchi dove trovi scarichi la mappa e poi vai in giro a naso un commesso di un negozio molto gentile ci fa collegare il suo wifi e ci indica un grande centro commerciale in un posto che si chiama colonia escalon qui è un grosso quartiere molto famoso quindi un centro importante di san salvador e ci fa guarda andate qui perché lì dentro è enorme ci sono tutti i negozi ufficiali di tutti gli operatori telefonici di el salvador e in più ci sono anche un abbotto di baracchini che vendono ricariche schede quindi ci incamminiamo una quarantina di minuti a piedi arriviamo lì ed in effetti entriamo in questo grande androne proprio il tipico centro commerciale americans ma anche come i nostri insomma tre piani e lì in effetti ci è pieno di baracchini sai quei baracchini che sono tipici di queste parti del mondo che ti vendono sono quelli che ho immagino io si chiamano i locutorios quelli dove ci sono anche hai anche il monitor per usare internet tipo l'internet caffè no 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 questi sono proprio dei baracchini tipo degli stand di un metro per un metro che ti vendono cianfrusaglie elettroniche caricabatterie power bank cinesi telefonini da 30 euro da 30 dollari e anche però le sim card cominciamo a batterli uno per uno e nessuno accetta bitcoin ma la roba strana andatevi a vedere il vlog per curiosità per vedere le facce che fanno cioè io lì ho detto cazzo qua la situa è tesa perché tutti gentilissimi carinissimi no cioè però quando gli dici bitcoin sgranano gli occhi come se fosse una parola della quale non sentono più parlare dai tempi del nonno hai capito ma perché ma diffidenza stile mi stanno truffando o proprio non so di cosa stanno parlando ma no cioè no forse mi sono spiegato io nessuna diffidenza cioè fanno la faccia come per dire ah figa è vero c'è bitcoin anche non ne sentivo parlare da sei mesi ma come mai secondo te si è esaurito un po' l'effetto dell'airdrop di 30 dollari l'effetto dell'airdrop di 30 dollari bro si era già esaurito un anno fa era esaurito un anno fa da un mese quando c'eravamo stati noi se ti ricordi e c'è poco da fare cioè loro nella loro vita reale non lo usano se usano cibo quei pochi che usano cibo secondo me lo usano per passarsi dollari i turisti arrivano perché i numeri dei turisti sono del turismo dell'ufficio del turismo sono ottimi e in crescita e sicuramente lì dentro c'è tanta ci sono tanti bitcoiner che vengono a vedere il salvador ma che non spendono bitcoin perché no cioè sono quei soliti figa io non li spendo i miei bitcoins you can togli i dollari io non capisco una cosa ma comprali appena prima di spenderli perché non è uguale a spendere gli euro i dollari infatti è una coglionata questa ma io l'anno scorso ho visto gente alla bitcoin beach andare alla hope house a comprare il quotidiano che annuncia l'entrata in vigore il bitcoin day io me lo sono comprato in con una lightning e lui in dollari e mi fa che coraggio che c'è io non li spendo i miei bitcoin per queste robe sei nel paese del legal tender il successo di questa operazione dal successo di questa operazione dipende la quotazione dei tuoi bitcoin anche sul mercato internazionale se questo esperimento se questo esperimento ha successo la bitcoinizzazione del mondo verrà accelerata di 10 15 anni e tu sei così scemo che questa cosa qua non riesci a capirla e sei così egoista che vuoi tenerti i tuoi bitcoin e sei così pigro che non vuoi neanche spendere 30 dollari in bitcoin per ricomprarteli la sera in albergo di lusso è una coglionata gli uomini sono una mandria di coglioni io non so più che cosa dirti allora aspetta facciamo un passo indietro anche a me sta sul cazzo spendere i miei risparmi ma certo lo abbiamo già detto l'ultima volta perché sono soldi che ho deciso di risparmiare a prescindere da che siano bitcoin o euro ma cioè bitcoin qui è già funziona l'abbiamo visto a Lugano abbiamo pranzato abbiamo preso al bar della discoteca abbiamo comprato i gadget in giro quindi funziona e va usato se proprio non vuoi spegnere i tuoi risparmi comprati un 100 euro di bitcoin 50 euro di bitcoin e metti solo e li spendi è uguale ad aver speso ma ricomprati la sera quello che hai speso esci a bere una birra supporta un commerciante che accetta bitcoin e sul taxi mentre compri mentre torni a casa apri bitkeep o quel cazzo che usi e ti ricompri i tuoi 30 dollari se hai culo anche di pato stai risparmiando più satoshi di quelli che avevi prima vabbè è una mentalità è una coglionata manca anche tra i bitcoin è vero sono quelli che vedono bitcoin come un asset e ti dicono ah ma è destinato a prendere valore nel tempo come se da solo lo facesse non lo usa nessuno secondo questa gente prende valore nel tempo se non lo usa nessuno capisci i ritardati mentali e ti dicono ed è un investimento per me e pensano di averti inculato così ma se tu ci pensi bene è una coglionata questa cosa anche se tu intendi bitcoin come investimento perché bitcoin è sì un token digitale ma è anche un'infrastruttura tecnologica usare l'infrastruttura tecnologica di cui hai acquistato un'azione è fondamentale no warren buffett uno dei principali stockholders di coca cola lo dice da 30 anni io tutte le mattine bevo una coca cola perché supporto le mie azioni così facendo è come se uno comprasse a wall street azioni di apple e a natale per tutta la a tutta la famiglia regala i samsung s10 che cos'è un coglione è un coglione non c'è nessun altro modo di descriverla una persona così allora va bene andiamo avanti l'adoption allora anche io la penso così noi bitcoiner almeno noi dovremmo essere i primi che ma infatti ha maggior ragione anche per diciamo smorzare le critiche del tipo bitcoin non funziona non scala non lo usa nessuno no non è vero noi sono 4-5 anni ormai che lo usiamo sosteniamo il podcast quando è possibile tipo Lugano perché ci sono tanti commercianti che lo usano non lo utilizziamo e quindi lo usiamo anche per pagare altre cose online io ho comprato per esempio dei corsi delle infografiche che ho anche dalla quale mi sono ispirato da un altro bitcoin insomma già funziona tutto già funziona è già pronto da essere usato però mi pare di capire la cosa che mi preoccupa è che se va bene noi facciamo sempre il solito discorso del noi siamo i privilegiati del primo mondo non abbiamo bisogno perché abbiamo l'inclusività finanziaria abbiamo tutte le carte che vogliamo in El Salvador invece mi aspettavo almeno una necessità maggiore di un mezzo di questo tipo soprattutto magari per esempio per le rimesse estere hanno il dollaro questi ma le rimesse estere come le mandano ancora con Western Union e MoneyGram Western Union guarda caso da quando è arrivato bitcoin ha abbassato le commissioni al 3% quindi almeno a questo è servito hai capito? guarda caso ha creato una concorrenza hai capito? guarda caso da quando è arrivato bitcoin in questo paese tutti i money transfert hanno ridotto dell'80% le commissioni quindi grande bravo bitcoin hai visto che la tecnologia quando rende non competitivi i servizi di strozzini migliora la situazione però ne ragionavo anche con i nostri lettori sul diario cioè tutto sommato questa cosa non ci deve stupire perché questa gente ha il dollaro il dollaro è la valuta fiat più desiderata nei mercati del secondo e del terzo mondo in Venezuela in Nigeria lo comprano sul mercato nero a tre volte il valore di mercato pur di accaparrarselo qui ce l'hanno in strada è ovvio che per loro bitcoin non risponde all'esigenza di una valuta locale marcia che si sta iperinflazionando in questo senso la legge bitcoin nel paese ha più senso come riserva di valore per la tesoreria di El Salvador contando nelle plusvalenze future come dice sempre Bukele nelle ultime interviste è stato un branding gratuito incredibile tutti sanno dov'è El Salvador oggi grazie a bitcoin nessuno lo sapeva prima e in più è un esperimento che sta timidamente consentendo al paese di attrarre investimenti aziende tecnologiche eccetera 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 allora aspettarsi che in un anno una tecnologia spontanea come bitcoin non è imposta ricordiamoci che per esempio l'euro non abbiamo potuto scegliere e solo per l'euro ci abbiamo messo dieci anni per passare definitivamente è rimasto un periodo di doppio valore la convertibilità è rimasta gratuita nelle varie banche centrali quindi già solo così ci sono voluti dieci anni figuriamoci con una tecnologia però non mi aspettavo una regressione ecco non lo usa nessuno non lo usa nessuno tu racconti proprio di esatto andiamo con ordine finalmente l'ultimo operatore telefonico DigiCell mi fa comprare tre simi in bitcoin anche lì cartelli a chi se alseptano bitcoin ci hanno messo mezz'ora perché hanno dovuto trovare il tablet dove era installato il cibo wallet il tablet dove era installato il cibo wallet era in un cassetto polveroso teneva il tavolo che ballava teneva la gamba del tavolo che ballava della DigiCell lo usavano per servire le pappuza esattamente nessuno si ricordava il pin per sbloccare quel tablet lì quindi sono passati almeno sei mesi dall'ultima volta sei mesi non lo so ma facciamo due sicuramente lo attivano e mi fanno pagare però questa è la situazione gli altri tutti gli operatori principali non lo accettano ma claro Movistar Tigo cioè i super giganti della telefonia in queste latitudini del mondo hai capito? ma che strano zero DigiCell che è il più sgrauso sì e ci ha fatto pagare il problema qual è Guybrush? il problema è che a loro non hanno transazioni tra di loro non lo usano il grosso dei turisti che arriva preferisce spendere dollari quindi non ci sono volumi no? e dall'altro lato Guybrush il problema è sempre il solito cibo cibo fa schifo quando loro ti dicono è troppo complicato e tu rimani interdetto perché dici ma come cazzo è possibile che qualcuno consideri oggi bitcoin troppo complicato che un buon wallet è più facile di paypal da usare è a prova di scemo hai capito e poi improvvisamente comincia a interagire con i cibo wallet e ti rendi conto che è un disastro abbiamo pubblicato una pillola su twitter l'altro giorno in italiano abbiamo nel frattempo lasciato San Salvador siamo tornati a nord del paese dalle parti di Santa Ana in questo momento ti sto parlando guardando fuori dalla finestra al vulcano di Santa Ana in un posto meraviglioso e lussureggiante davvero a volte ci dimentichiamo che oltre a bitcoin nel Salvador è un paese meraviglioso ragazzi veniteci perché merita di essere visto al netto di bitcoin facciamo check out dall'albergo albergo che già conoscevamo ci eravamo già stati l'anno scorso bitcoin friendly avendolo prenotato dall'Italia siamo andati sul sicuro almeno per il primo periodo del nostro soggiorno in modo da poterci organizzare con lavoro e tutto già lì l'albergo consta di hotel ristorante e caffetteria tutte e tre gestioni separate l'anno scorso tutte e tre accettavano bitcoin oggi caffetteria e ristorante non più abbiamo dovuto fare un accordo con l'hotel pagare l'hotel che poi avrebbe pagato loro quindi anche lì ma questo è strano cioè perché decidono di non supportare più un mezzo di pagamento e adesso te lo spiego perché vado a fare check out in hotel mi fanno mi danno una un indirizzo pubblico on chain ci stava perché comunque non erano 50 dollari vado in hotel intanto a preparare le valigie faccio la transazione metto le commissioni metto le commissioni alte faccio le valigie controllo su mempool sei conferme era andata subito benissimo sei blocchi faccio lo screenshot mando whatsapp alla reception e penso vedi che comodo bitcoin che non devo neanche andare in reception con la carta di credito davanti al post come uno schiavetto ma posso stare magari cagando sul cesso e pagare il conto è meraviglioso vai infatti dopo 30 secondi mi arriva un messaggio dalla reception con uno screenshot di cibo wallet riconosco ormai la grafica immediatamente perché mi si stringe l'ano la mia transazione esito cancellata ma come da chi cancellata vado ma come ma riapro per curiosità ma on chain nove conferme on chain or vado su mi armo armi e bagagli prendo il mac vado in reception e gli faccio vedere guarda che questa è la transazione lo vedi l'id è questo è identico guarda l'indirizzo che mi hai dato è giusto quindi tu questi soldi sono partiti all'indirizzo che tu mi hai fornito cosa vuol dire cancellata e questa cosa qui per bitcoin è inviolabile quindi io non posso né ritirarla e né il cibo wallet ti può dire che è cancellato perché è un errore suo evidentemente di lettura della blockchain allora le spiego tutto poi no però allora cancellata proprio non ha proprio senso adesso ti dico la mia teoria adesso fammi finire di raccontare la storia poi ti dico la mia teoria vabbè la Shura mi dice noi comunque ormai ci conosciamo l'anno scorso siamo stati tanto qui abbiamo ancora prenotato delle stanze perché durante ad Opting a San Salvador dormiremo lì mi fa se ho Don Riccardo nessun problema la mia titolare chiamerà il servizio clienti di cibo ecco per risolvere perché queste cose succedono e mi guarda e mi fa il vostro bitcoin funziona proprio male ecco capisci capisci certo è questo quello che esce che emerge per l'utente è questo e loro non hanno la conoscenza tecnologica per capire che una cosa è bitcoin una cosa è cibo ma è anche normale dai non possiamo pretendere che tutti approfondiscano la materia come noi la raccontiamo però come cazzo è possibile tu come te la sei spiegata allora ti dico io che cos'è qua la merda in base alle informazioni che io ho raccolto quest'anno e l'anno scorso cibo non ha un cibo non genera una tua chiave pubblica cibo è un mega wallet bitcoin centralizzato e tutti i bitcoin che entrano dai portafogli esterni vanno a quel mega wallet di stato e poi c'è davanti una struttura di divisione tra i vari account si dice Algorand l'abbiamo documentato anche l'anno scorso ed essendo Algorand fa cagare e quindi si perde i pezzi però è bello la terminologia che non c'entra proprio niente con la sottostanza è cancellata richiama una sorta di sono tornati al mittente questi soldi è stata cancellata la transazione quindi il mittente è come se fosse stato uno storno però non ha senso per una transazione un chain quindi è anche un pochino fuorviante per l'utente cancellata al massimo potrebbero mettere fallita o pendente ma anche lì fallita che cosa che ho nove blocchi dopo quello che continua la mia transazione fallita potrebbe essere la transazione è in main pool da un giorno e non viene confermata mai non viene mai scritta allora consideriamo la fallita lì è il legger interno di cibo probabilmente che gira su Algorand però la risposta ufficiale del customer service non la sa non la so ancora la chiederò perché tornerò lì e mi informerò però poi nel frattempo noi abbiamo pubblicato una pillola su twitter non so se l'hai vista magari la linko nei commenti scusami nelle note delle puntate e soprattutto quella in inglese è diventata un po' virale no? c'è sotto una bella discussione e soprattutto ha fatto tanto engagement con i salvadoregni e che dicono che questa cosa qui capita sempre sistematicamente con importi di un certo tipo guarda caso ok gli importi piccoli on chain va abbastanza bene sugli importi grandi questa cosa qui la fa chiami il customer care il customer care ti accredita si va a guardare la transaction in diva ho capito ma allora porco di adesso ci ho bisogno del servizio clienti resti in attesa per rievere i suoi soldi digiti uno per la mente aspetta aspetta ma non c'è nessuno che non sta usando civo e si è fatto un wallet per i cazzi soldi è certo che c'è quelli svegli ovviamente ci sono oltretutto adesso infatti spero di poterlo provare oltretutto adesso c'è il nuovo la nuova versione del wallet della bitcoin beach che ha implementato questa cosa che si chiamano stable sats che è una stable coin su bitcoin peggata però al valore del dollaro quindi anche lui ti consente di convertire istantaneamente bitcoin in pseudo dollari sperando che non sia una lunata perché poi siamo sempre lì però no probabilmente loro dovevano gettarsi in un mercato in cui avevi cibo come competitor principale che aveva sta feature dei dollari hanno dovuto fare qualcosa che loro di questo senso però Guybrush tu devi capire che soltanto una minima parte quella degli utenti più schillati capisce che ci sono i wallet open source non custodial cioè loro il governo spinge su cibo le pubblicità sono su cibo l'airdrop di 30 dollari era su cibo gli articoli sui giornali parlano di cibo no ma poi sai che ci vedo anche una sorta di collo di bottiglia gestionale perché la reception dell'hotel usa dovrebbe usare che ne so un tablet o un telefono con un wallet ma le chiavi del wallet dovrebbero essere state conservate che ne so dal titolare dell'albergo da chi fa che gestisce la contabilità cose di questo tipo guarda te lo dico ti do anche questa risposta neanche avviene questa cosa qui la titolare dell'albergo ha un cibo che è il cibo suo e hai tre clienti l'anno che gli chiedono di pagare bitcoin nella migliore delle ipotesi usa quello perché io questa qui oltretutto l'anno scorso ci avevo anche già parlato e lei mi aveva chiesto un po' lo aveva raccontato anche al podcast forse qualcuno si ricorda che comunque mi aveva chiesto ma senti ovviamente stiamo parlando di una donna salvadoregna che parla inglese proprietaria di un hotel quindi classe medio alta se non alta ora non ho la sua dichiarazione dei redditi ma la colloco lì e quindi nel giro più alto locato le informazioni circolano più rapide quindi mi aveva chiesto è vero che cibo e io le avevo detto no hai ragione scaricati un altro wallet poi le avevo anche se non sbaglio mandato un libricino da leggere in spagnolo la traduzione in spagnolo non mi ricordo di che libro di contatto al bitcoin però Guybrush cioè o sei sveglio o sei curioso o ti serve se non sei nessuna di queste tre cose e poi un anno dopo sei lì concivo e oh cioè da un dato punto di vista sono cazzi i tuoi mo ti attacchi al customer care come se stessi chiamando le poste ultima domanda ultima domanda dal punto di vista del legal tender la legge ti protegge cioè tu dici io ho pagato e non è colpa mia se il tuo sistema di pagamento che hai adottato non ti dice cancellata io ho pagato e posso dimostrarlo la legge protegge te allora ovviamente ti ricordi la legge l'abbiamo letta insieme ai tempi che furono nella terza stagione del Bip Show non dice niente di tutto questo la legge è molto vaga allora noi siamo tutelati ovviamente perché comunque cittadini stranieri turisti pure podcaster mezzi giornalisti quindi cioè ieri a un certo punto quando il dibattito è infiammato sotto il nostro tweet in inglese ci ha scritto Stessi Herbert dicendoci sto parlando col boss di cibo per capire dov'è il problema ok quindi c'è anche da dire questo cioè ormai siamo anche un po' conosciuti quindi so quindi adesso tremano in tutti i supermercatini di El Salvador perché andrete a chiedere la transazione ci hanno file in giro gente che sta già andando adesso a fare scorta di cose per evitare la fila che creerete voi quindi adesso dove andate adesso aspetta un attimo fammi chiudere una cosa so però su questo punto qua so però che c'è gente che ha perso soldi sul cibo wallet che sono spariti e che ha fatto per malfunzionamenti di cibo sì sì e che sono spariti e che e ci hanno messo un botto di tempo a farseli riaccreditare perché capisci io perlomeno ho in mano una conferma on chain ma se tu hai ricevuto soldi su cibo la tua conferma è cibo eh certo se cibo sbaglia non puoi provare in nessun modo perché l'informazione è chissà scritta dove devono andare a scartabellare il loro database che speriamo davvero non sia algora ma sia un database normale almeno a questo punto fai un database normale in cui gestisci i conti degli utenti e poi il bilancio del tuo wallet bitcoin lo gestisci in un altro modo boh non lo so ma sai l'anno scorso avevi avuto anche degli inside da proprio il mondo dello sviluppo dicevo avevi parlato con qualcuno avevamo raccontato che all'inizio lo sviluppo era stato dato da Atena poi Atena è stata licenziata adesso dovrebbe essere in mano a un'altra è in mano a un'altra software house mi hanno detto qui ho incontrato delle persone molto vicine al governo a San Salvador che c'è un team che si sta ingrossando di sviluppatori per fixare si parla di almeno una decina di persone full time su Civo però i risultati non si vedono va bene dai ascolta allora facciamo così recap non si poteva aspettarsi full adoption iper microutilizzazione in un anno però forse neanche così male allora devo dirti la verità io non sono sono colpito ma non sono stupito anche perché poi adesso calliamo la maschera Guybrush io ovviamente nel frattempo nel paese ho contatti e non è che in questo anno io sono sparito avevo voci che mi puntavano che mi davano degli indizi in questo senso il tema qual è anche lì noi raccontiamo quello che vediamo ci sono quelli che si incazzano mi hanno detto che c'è pure fatto una card benetazzo dicendoci ecco ve l'avevo detto vabbè lasciamo perdere non lo so perché è stato l'intervento dello stolido Eugenio esatto da noi è mutato perché non ho tempo da perdere ma quindi non lo leggo al netto di questa gente qui che si lamentano oppure ci sono quelli che ti dicono ah ma voi spargete food no noi raccontiamo quello che ci succede durante la giornata e raccontiamo la verità non è questione e un po' di autocritica e di critica dovrebbe magari anche essere considerato un minimo costruttiva secondo me se siamo una comunità di scienziati se invece siamo dei tifosi assolutamente però assolutamente il lavoro che va fatto è quello lì anzi sei l'unico che ha avuto l'idea di tornare a vedere come stava andando dopo l'exploit dell'anno scorso i razzi e gli annunci però ti devo dire la verità qui in realtà noi ci siamo sbagliando noi come comunità del bitcoin sbagliando ci siamo dimenticati di essere cypherpunk e quindi fondamentalmente anarchici di indole e abbiamo pensato che un'adozione di stato governativa sarebbe stata in grado di realizzare l'irrealizzabile e quindi gonzi noi anzi un'adozione di stato complica le cose e quindi c'è poco da fare Guybrush la bitcoin è inevitabile ma impiegherà decenni anche nel salvador noi abbiamo pensa ci siamo illusi che nel salvador bitcoin nel giro di un anno e mezzo potesse scalzare il dollaro e diventare quindi il salvador il bitcoin country dal giorno e la notte c'è c'è da ridere se ci pensi adesso c'è da ridere forse ci vuole minimo un ricambio generazionale 10 anni in questo paese come minimo come minimo il che non significa ovviamente che l'esperimento bitcoin nel paese sia fallito come sostiene Eugenione che perché quando quando cosa c'era era scadenza temporale cos'è giochi senza frontiere se non bevi tre birre entro un minuto sei squalificato no l'esperimento continua e continua ad essere interessante come ho detto ci sono degli elementi che sono importanti mi risulta che gli stati attorno al salvador continuino a guardare a questa cosa con grande interesse e tra poco ci andrò tra un mese sarò in guatemala e quindi vi racconterò che cosa sta succedendo lì semplicemente ragazzi relax sedetevi comodi perché questo film è un film molto lungo bene bene sono contento allora cari amici ascoltatori seguiteci per le prossime notizie da Ricky e Laura da El Salvador ma nel frattempo se volete accumulare o acquistare dei bitcoin fatelo perché la massa adoption passa anche da noi bitcoin che lo utilizziamo conservateli con un fantastico hardware wallet che ci abbiamo messo un bel po' a scegliere alla fine di compromesso in compromesso tra sicurezza facilità di utilizzo trasparenza e anche perché no costo abbiamo scelto il bitbox 02 di Shift Crippo un'azienda svizzera che produce questo hardware wallet che secondo noi è diciamo il punto di incontro giusto tra facilità di utilizzo interfaccia sia dal punto di vista dell'applicazione che andrete a installare sia dal punto di vista proprio del dispositivo che avrete in mano e sicurezza con tutte le varie implementazioni a livello di chip a livello di controlli crittografici a livello di backup delle vostre chiavi private l'applicazione è veramente facile avete il vostro bilancio avete i vostri transazioni potete firmare transazioni potete farci quello che volete anche cose più complesse non è solo un wallet diciamo un hardware wallet per l'utente ma anche un po' per lo smanettone potete connetterlo al vostro fullnode potete connetterlo via tor potete selezionare quali utxo spendere insomma ha tante features sia semplici semplicemente utilizzando bitcoin sia un pochino più complesse shiftcrypto se tra l'altro se usa shiftcrypto.ch è il sito bitbox02 è il nome dell'hardware wallet se usate anche il codice sconto bipshow avrete un 5% di sconto che non guasta ma io mi chiedo amico mio sì ma la gente non si rompe le balle di farsi sodomizzare duro 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 ci ho pensato anch'io in questi giorni dai questo diciamola veloce perché sono un po' stanchio mi sono rotto le balle veramente allora solo per informazioni di servizio per i nostri ascoltatori probabilmente in questi giorni se bazzicate un pochino i social network vi sarete visti anche semplicemente guardando il grafico di bitcoin avrete visto un calo adesso in questo momento siamo a 17.500 euro da 21.000 che eravamo l'altro ieri che cosa succede sul mercato bitcoin è morto per la centesima volta no è successa sempre la solita cazzata che succede da anni però forse è morta solana è morto solana hai visto meno 40% in una notte qualcuno è morto povero Eugenio qualcuno è morto comunque in sostanza un grande exchange incredibile ha bloccato i prelievi adesso io sì FTX tra l'altro uno di quelli che era considerato in gergo too big to fail perché certamente in questo settore diversamente da tutti gli altri settori della finanza tradizionale esiste il concetto di too big to fail ma vuoi che per caso FTX fallisca vuoi che Crypto.com fallisca vuoi che Binance fallisca sì prima poi falliranno esatto pure Binance ragazzi ricordatevi questa Binance fallisce perché Binance fa riserva frazionaria aspettate una bank run su Binance e vedete che fine fa Binance Mark tra le altre cose si distinguono sempre per avere dei CEO di un'arroganza di un'antipatia rara cioè come Donald Simiento Kwon questo qui di FTX è veramente una persona disgustosa al tatto proprio che non più tardi di un mese fa aveva rilasciato un'intervista al New York Times titolone Bitcoin come strumento di pagamento non ha futuro è destinato a fallire eccolo là grazie grazie per l'opinione se ne vada allora praticamente in galera c'è stato tra l'altro una sorta di acquisizione aggressiva da parte di Binance nei confronti di questo exchange quindi di fatto non so se sia stato tutto pilotato comunque ho letto che la SEC indagherà su questa acquisizione coso l'ICZ ha pubblicato con dei tweet in cui diceva che avrebbe diciamo venduto tutti i suoi token tutte le sue percentuali nell'altro exchange FTX questo ha causato una corsa al prelievo su FTX FTX esatto l'altro FTX non aveva a disposizione Fries aspetta perché questa va raccontata è carina l'altro scemo il CEO di FTX Fries all'inizio faceva tutto il figo si sono scazzati su Twitter lui gli ha detto ah sì fai così CZ sai quanti Binance token abbiamo noi vuoi vedere che te li dampo in faccia anch'io ma voi vi rendete conto ragazzi che comprate roba di questa gente voi vi rendete conto dello schifo di cui che vi comprate ragazzi cioè voi vi rendete conto fa già pena no? Binance vende dampa bank run non hanno i soldi perché gli exchange centralizzati fanno riserva frazionaria i soldi che voi lasciate sugli exchange se li spendono come Bank Anton Veneta ragazzi cioè se non vedete questa cosa siete veramente dei gonzi miopi quindi quando vanno sotto pressione non hanno la liquidità per ripagarvi il token crolla e loro vanno da Binance a chiedere di comprarsi di farsi tra l'altro nel frattempo gli utenti non riescono più a prelevare i propri fondi quindi se non è ovvio così not your keys not your coin non sappiamo più come dirvelo io spero che i pochi ascoltatori del Bitcoin Italia Podcast che ancora hanno i propri bitcoin sugli exchange corrono a ritirarli appena riescono quelli che invece non ce li hanno più perché ci stanno ascoltando da tanto tempo dicano i loro amici di togliere i bitcoin dagli exchange e così via perché prima ci liberiamo di questo cancro meglio è in questo settore in questa criptosfera che non è una criptosfera è semplicemente la riproposizione perversa e malata di quello che avevamo già esatto quindi io sono sono veramente stanco di commentare rispondere alle mail come vedete questa cosa è sempre la solita ma sai che ma sai che l'altro giorno erano in diretta lui doc won di luna da sin che è scappato a singapore per fuggire all'arresto ed erano lì a fare una diretta con tutti mancava macinski di celsius cioè il gota dei truffatori è la gente sotto che gli leccava il culo non avete speranza se siete schiavi schiavi resterete se invece volete liberarvi lo strumento per liberarvi è bitcoin e lo potete acquistare su bitkeep in maniera facilissima senza kwyc o meglio con kwyc lite perché l'applicazione non vi chiede documenti e non vuole sapere la vostra identità la procedura di kwyc è demandata alla vostra banca perché alla vostra banca si dice all'applicazione quanti bitcoin vuoi comprare l'applicazione ti fornisce un indirizzo IBAN e un codice che devi mettere come causale del versamento apri il tuo home banking fai il bonifico e quando bitkeep riceve il bonifico ti invia i bitcoin direttamente sul wallet dell'applicazione o sul wallet di tua scelta ma anche quello dell'applicazione è non custodial il modo più facile e sicuro per acquistare bitcoin è bitkeeping allora gai brush john carvalho allora polvironi su polvironi esatto john carvalho ultimamente ci sta dando soddisfazioni cosa succede è un po' stanco io lo capisco un po' stanco perché anche io che avevo iniziato in questa primavera a seguire più attivamente mi ero detto adesso mi metto qua e leggo bene tutta la bitcoin dev list è diventato un puttanaio di mail che non riesco più a seguire all'inizio all'inizio ce la facevo adesso no e lui parte da qua nella sua critica dice che vabbè lui è un pochino devo ammettere è un pochino come modi di espressione un pochino secondo me drama queen ecco l'ho detto perché parla proprio di un attacco interno degli sviluppatori a me non mi sembra un attacco io non ci vedo un attacco vero e proprio certo è che bisogna bisogna tenere l'attenzione alta anche perché la discussione sulla quale lui accende i riflettori non può essere considerato un attacco stile Jeremy Rubin e Covenant questa è una discussione che va avanti da tipo sette anni capito non è un attacco è uno di quei temi lunghissimi di cui si parla di cosa si parla allora praticamente in luglio è stata inserita come feature di bitcoin core node full node per intenderci l'opzione un'opzione di un parametro di configurazione chiamato mempool full rbf che cosa fa questa opzione sostanzialmente niente perché di default è disabilitata ok quindi questo è importante secondo me però se abilitata rende la mempool del nodo che la abilita una mempool full rbf vuol dire che considera la mempool vi ricordo è quella zona la memoria temporanea in cui tutte le transazioni rimangono in attesa di essere scritte in un blocco quindi di iniziare a essere confermate nella blockchain la time chain vera e propria considera tutte le transazioni in questa mempool in questa zona di memoria come diciamo sostituibili tramite il protocollo rbf replace by fee al momento attuale non è così e anche nella versione attuale di bitcoin core non è così perché ricordo l'opzione è di default disabilitata quindi devi andare proprio tu volontariamente ad abilitarla cosa significa rbf è un protocollo che permette a chi si accorge di avere per esempio creato una transazione sbagliata per esempio all'inizio c'era la possibilità siccome i wallet erano diciamo non erano testati c'era la possibilità di creare una transazione per sbaglio con zero satoshi di fee e ovviamente la transazione con zero satoshi di fee non veniva minata mai quindi ti rimaneva lì bloccata per sempre oppure poi dopo con vari bug fix di questo genere semplicemente tu hai bisogno di fare una transazione velocemente e fai una stima delle commissioni o segui la stima il calcolo che ti fa il tuo wallet ma magari succede un evento non previsto e questa stima che ne so si raddope quindi tu hai bisogno di gestire la transazione e di poterla accelerare la sua conferma allora si sono inventati in questo caso Peter Todd si è inventato un sistema per segnalare volontariamente che una transazione è replicabile con questo metodo che si chiama replace by fee cioè tu spendi gli stessi output non tutti anche almeno uno degli output che stavi spendendo nella transazione precedente puoi cambiare puoi cambiare l'output di questa transazione però l'importante è che le fee le commissioni siano maggiori rispetto a quella precedente in questo caso il full node è istruito per scartare la versione precedente e considerare buona solo quella con le fee maggiorate questa è una funzionalità che per esempio in Electrum quello che utilizzo io Electrum Wallet è disattivabile io la attivo di default posso anche disattivarla e in questo caso le mie transazioni verrebbero fleggate come non sostituibili allora perché questa sottigliezza tecnologica ha creato un polverone una discussione clamorosa il motivo è che le cosiddette transazioni zero conf cioè le transazioni che sono in Manpool che non sono ancora confermate in realtà hanno già un caso di utilizzo da anni che sono per esempio i Bitcoin ATM è certo oppure Moon Wallet oppure lo stesso Bitkit che è il wallet della Synonym che è l'azienda di John Carvaio la sua paura è che togliere diciamo tenere questa opzione come utilizzabile faccia sì che i miner decidano di utilizzarla di default andando così proprio a come dire eliminare del tutto il concetto di transazione con zero conferme perché il miner ha interesse a massimizzare le commissioni quindi per lui è un bene che tutte le transazioni siano sostituibili da una con una commissione più alta per lui è più remunerativo se il 100% della Manpool ha la possibilità ha la probabilità di aumentare le fee piuttosto che una percentuale inferiore quindi lui dice in questo modo noi andiamo a creare andiamo a modificare una proprietà intrinseca di Bitcoin che è appunto la transazione nella Manpool e andiamo a togliere appunto una cosa che era nativamente supportata e sulla quale magari qualcuno ha anche costruito il suo business non magari proprio qualcuno ha costruito il suo business allora qua si crea una diatriba di vecchia data perché uno dice no perché le transazioni in Manpool non sono transazioni vere non sono considerabili transazioni vere perché finché non sono scritte nella blockchain finché non ci sono state un minimo n di conferme stimato a 6 eccetera eccetera la transazione non si può considerare verificata allora parte la critica ma allora anche le transazioni che avvengono sul Lightning Network non sono transazioni vere Bitcoin invece non è così le transazioni che ci palleggiano due Lightning Node sono transazioni a tutti gli effetti questa è una stronzata però scusami è una stronzata sì sì no beh ti sto raccontando sì sì no 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 nel frattempo commentiamo cioè questa è una stronzata cioè c'è uno smart contract che è stato firmato con le chiavi private c'è una transazione di apertura di un canale e quindi è una cosa completamente diversa in Lightning Network il problema per esempio nasce quando per esempio ci si verifica un bug e la transazione io del lato A del canale ho una transazione tu cerchi di trasmettere una transazione precedente non ho modo di vedere che lo fai perché magari il mio full node va offline e quindi abbiamo una discrepanza tra le transazioni quindi qual è quella vera non si sa rimane quella che viene pubblicata prima o rimane quella che era teoricamente insomma dibattito lunghissimo allora John Carvaio tra l'altro essendo abbastanza diciamo non disposto al compromesso alla discussione ha proprio oggi pubblicato un tweet in cui dichiara che congelerà i suoi nodi i suoi nodi Bitcoin Core alla versione 22 scusa 21 addirittura pretaproot perché fa riemergere anche altre critiche di questo tipo rispetto alle implementazioni del protocollo iniziale critica anche Segwit anche lì questo famoso compromesso rispetto alla grandezza del blocco Segwit diciamo che è il risultato finale della Black Sides War quello in quale c'erano quelli che volevano ingrandire il blocco quelli che non volevano allora il compromesso è stato ingrandiamolo ma con un workaround un escamotage per fare in modo che i vecchi nodi possano mantenere la loro funzionalità sul blocco a un megabyte e spostiamo parte dei dati che non sono fondamentali alla fine del blocco quindi abbiamo da una parte i full node che interpretano correttamente i nodi i blocchi maggiori di megabyte e dall'altra quelli che invece se vogliono possono non farlo lui dice addirittura che vuole tornare indietro su questa su questa scelta strutturale e riapre il dibattito sul block shrink cioè su quello di tornare a una dimensione di blocco inferiore insomma si è sollevato tutto un polverone tra gli sviluppatori per il quale adesso non so vedremo l'evoluzione perché tra le altre cose si crea una sorta di discrepanza a livello di codice perché lui qualcuno dice va bene io però voglio mantenere Taproot perché secondo me anche secondo me è importante Taproot dopo ti dico come la penso io ma però voglio togliere l'opzione Manpool Full RBF quindi scarico la versione 24 di Bitcoin Core ma applico una patch che elimina quindi sono già partiti i primi fork del codice per implementare diciamo la nuova le nuove Fiature senza questa opzione allora sono tutte sottigliezze diciamo tecniche noi di tecnologia parliamo nel nostro podcast perché adesso ti spiego perché allora chi ha interesse ad avere questa questa opzione sono avere diciamo la Manpool Full RBF quindi con tutte le transazioni di default a RBF non ha bisogno sono i miner sostanzialmente e non ha bisogno di una opzione di configurazione ok cioè possono benissimo scaricarsi il codice e applicare la patch sono operatori che hanno industria quindi esatto capito quindi di fatto questa qui è solo una facilitazione io non credo come dice John Carvaglio che solo rendendo disponibile questa opzione andiamo a eliminare le Zero Conf anche secondo me le transazioni con Zero Conf ferme hanno dei casi di utilizzo perché perché se consideriamo la Manpool come diciamo una zona temporanea in cui le transazioni aspettano di essere confermate andiamo a definire anche la blockchain come di fatto ciò che dà alla Manpool il diritto di esistenza ok perché senza blockchain potremmo dire va bene usiamo solo le Manpool non scriviamole e vediamo e andiamo a controllare tutte le Manpool di tutto il mondo e facciamo in modo che rimangano coerenti tra loro ok una specie di soluzione alla sharding di Ethereum sì esatto esatto diciamo così non si può fare perché sulla Manpool le policy di accettazione nella Manpool di ogni nodo sono libere sono lasciate libere mentre c'è un consenso molto meno libero molto più rigido da dopo in poi da quando viene confermata il primo blocco della transazione confermata del pieno blocco e nei blocchi successivi quindi diciamo che la blockchain rispetto alla Manpool è la corte di cassazione la Manpool non può farci niente però questo è l'ambiente diciamo 100% ostile la politica di sviluppo di bitcoin è quella di pensare di essere immerso in un ambiente in cui che deve risolvere il famoso problema dei generali bizantini in cui tu sai assumi per certo che esistano dei nodi malevoli esisteranno degli attacchi sempre pur però non è così nella realtà ok ci sono tanti casi di utilizzo in cui l'utente semplicemente fa la sua transazione e non fa niente non prova a fare il double spending la maggior parte delle transazioni che finiscono in Manpool la stragrande maggior parte sono oneste ok è vero che non ho la certezza matematica ma di fatto il dato è che sono oneste quindi c'è spazio per creare un software un caso di utilizzo anche sulle transazioni Zero Conf ed è stato utilizzato questo spazio vedi Moon Moon per esempio come ha fatto implementa una sorta di osservatori di Manpool cioè praticamente loro hanno dei computer che osservano le Manpool di vari nodi e nel momento in cui c'è qualcuno che prova a fare un double spend di una transazione che non è ancora stata confermata intervengono con dei meccanismi per esempio Child Pays for Parent cioè quello di inserire una transazione successiva a quella che sta cercando di essere doppio spesa per andare a recuperare i fondi subito ci sono diversi metodi per fare per gestire le transazioni anche senza zero conferme è vero che questo va contro la politica generale di Bitcoin è vero che una transazione zero conferme non esiste ancora perché il consenso di Nakamoto impone che una transazione esista solo se scritta nella blockchain però poi nella realtà ci sono casi di utilizzo funzionanti anche con altri tipi di approcci a questo settore per questo io ho diciamo che do ragione a metà a John Carvalho e a metà a Peter Todd secondo me cioè lui dice John Carvalho ha ragione perché è vero che ci sono già dei casi di utilizzo e non possiamo fare finta di no dall'altra parte do ragione a Peter Todd perché l'opzione RBF così come è stata implementata nasce come workaround ok non nasce come un'implementazione una feature nasce come back fix emergenziale rispetto al fatto che c'erano delle transazioni che rimanevano pendenti per cent'anni e non si sapeva come cazzo toglierle dalla mempool se non a mano se non intervenendo a mano e per siccome non si poteva non si può cambiare il formato di una transazione perché andresti a invalidare per esempio transazioni già valide già firmate nel tempo ma che non sono tempo fa ma che non sono ancora state trasmesse tu cosa hanno fatto hanno utilizzato un campo della transazione si chiama n sequence e un valore di questo campo particolare è stato diciamo interpretato nel codice come segnale di supporto al protocollo rbf quindi nasce proprio già come workaround quindi l'idea di intervenire sul codice per sistemare questa cosa che è rimasto un workaround per anni ci sta dal punto di vista dello sviluppo informatico ci sta perfettamente però nel frattempo è successo quello che dice John Carvaio l'abbiamo usata questa cosa e quindi secondo lui bisogna rimanere conservativi e proteggere tutti i casi di utilizzo che già su bitcoin funzionano perché John Carvaio ci tiene sempre a sottolineare che il bitcoin già funziona non ci sarebbe bisogno di implementare nuove cose già usando così e correggendo solo i bug già noi potremmo costruire un sistema finanziario globale e totalmente distribuito quindi non so sinceramente dirti chi vincerà perché anche io sono in difficoltà nel decidere però so per certo che se la richiesta del mercato è quella di andare verso le mempool full rbf i miner lo faranno se non sono i core dev a implementare quest'opzione i miner semplicemente patcheranno il loro bitcoin core e quindi bitcoin va dove va il mercato e degli utenti di bitcoin e purtroppo se John Carvaio costruisce Moon Wallet i bitcoin e i tm costruiscono un business sulle transazioni zero conf potrebbero trovarsi in un certo momento in cui questa cosa non funziona più certo e non è però un attacco non è un attacco a bitcoin o alle sue radici come lui lo vuole far passare secondo me sì forse poi John ha il suo carattere l'abbiamo anche conosciuto fumantino diciamo non lo so però io capisco il suo punto di vista è anche vero che uno non è che può pretendere che il codice che un codice rimanga era inalterato nei secoli per tutelare il business di chi ha investito e fa impresa su quelle che sono le vestigia del codice fa parte dell'evoluzione delle cose la nostra società evolve e alcuni servizi diventano obsoleti e vengono superati e come tale non sono più profittevoli cioè mi dispiace se John Carvaglio John Carvaglio ma anche altri e anche Moon Wallet e Bitcoin ATM hanno utilizzato le transazioni zero conf per fare ti ricordi che io l'anno scorso da qui il Salvador ho dimostrato come si poteva con replace by fee rubacchiare soldi dai cibo ATM prendendo contanti e poi cancellando la transazione quello lì è il concetto è un calcolo del rischio loro dicono io so che il 95% degli utenti semplicemente utilizzerà il prodotto e finisce lì per quel 5% che invece cercherà di fare double spend così implemento un altro metodo di sicurezza che fa questo questo e questo è un calcolo del rischio che ha funzionato non c'è niente da questo è un fatto non si può dire di no forse l'idea è costruire oggi perché la sinonima è nata l'anno scorso costruire oggi un business una tecnologia su un aspetto di bitcoin che potrebbe essere cambiato che non è soggetto a diciamo un'implementazione netta quindi o c'è o non c'è perché noi stiamo parlando di un'opzione che di fatto va bene tu mi hai messo manpool RBF come default spenta ma che posso accenderla ma il miner se vuole implementarsela questa cosa se lo poteva fare anche prima quindi non è così netta la divisione e la divisione tra questa feature c'è o questa feature non c'è la policy della manpool potrebbe essere anche cioè io per esempio potrei dire nel nostro full no del bitcoin italia podcast implemento io la manpool e metto dei filtri rispetto a varie transazioni quindi nella mia manpool certe transazioni non ci finiscono più ognuno può farci quello che vuole da questo punto di vista lo diciamo spesso bitcoin è molto democratico esatto ci poteva aspettarselo che sarebbe successa una cosa del genere anche perché questa discussione su come gestire la sostituibilità delle transazioni nella 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 manpool è in discussione da anni la stessa gloria zao quando vi raccontavo della sua proposta dei pacchetti di transazione è qua che va a operare va a operare su come i nodi devono propagarsi transazioni consecutive che spendono output e input di se stesse non ancora confermate quindi che devono possono essere trasmesse hanno un senso logico solo se trasmessi insieme in un pacchetto quindi anche lì andando a ben vedere quella tendenza lì e lui ovviamente è contro anche questa cosa rbf lascia un po' il tempo che trova quindi di fatto è una base troppo poco solida per costruirci un business ecco però ha ragione però nel dire che c'è ed esiste e secondo lui dovremmo proteggerla però io dico aggiungo che non si può proteggere anche se togliamo l'opzione mempool for rbf ormai la pulce è inserita e tu non puoi sapere se i miner iniziano da domani a implementare la loro versione modificata quindi sostanzialmente tu dici che al netto di tutto al netto del dibattito ormai i buoi sono scappati puoi anche chiudere il rescinto ma il coniglio è fuori dal cappello non so che metafora preferisci esatto adesso allora vediamo c'è in programma la release 24 mi pare di leggere su github ho letto che toglieranno effettivamente l'opzione in attesa di dibattito che continua quindi di fatto vince vince john carvaio perché mi pare che la tendenza sia proprio quella di togliere l'opzione mempool for rbf però vediamo se per esempio il partony fork cioè il fork semplicemente non dico un fork della blockchain proprio un fork del codice in cui è uguale alla 24 con l'opzione mempool for rbf oppure è uguale alla 24 con la patch per inserire l'opzione for rbf vedremo come va perché la release mi pare che deve arrivare entro fine anno quindi ne vedremo ne vedremo e poi su taproot sulla sua sulla sua posizione su taproot io sinceramente sono un po' sono contrario perché di fatto già solo le firme aggregative snore erano già in programma già quindi no no assolutamente taproot non si tocca possiamo parlare sulla block size sul tornare a un blocco di un di un di un mega senza supporto back 32 ma che poi scusami fammi capire anche lì sono cioè è un aumento virtuale è un aumento virtuale no è un aumento reale in realtà è virtuale dal punto di vista del protocollo semplicemente del protocollo di fatto i blocchi adesso sono tra un mega e tre mega ok di grandezza un mega e due un mega e tre un mega e otto a volte sono anche meno c500k così comunque si può superare di fatto il limite il limite imposto purché la parte che supera il limite sia solo la parte delle firme delle firme delle transazioni quindi quella che di fatto non serve ai nodi per fare la verifica semplice delle transazioni quindi di fatto a livello di protocollo il blocco rimane la parte significativa del blocco rimane sotto un mega a livello reale di quello che di fatto si scambiano i nodi si supportano più byte per blocco certo questo è stato una sorta di compromesso per mettere io personalmente lo trovo un compromesso ottimo non capisco perché John Carvaio ce l'abbia cioè è il compromesso perfetto perché non appesantisci la blockchain ma consenti più scalabilità no? c'è qualcosa che mi sfugge? no è così è così perché di fatto in un blocco che deve spostare parte dei suoi dati fuori puoi farci stare più transazioni di fatto è così ci stanno più transazioni se le usi se sono native segvit diciamo che tutte le le preoccupazioni rispetto a questa a questa implementazione riguardano un futuro che secondo me è ancora troppo lontano perché da come ci racconti tu non siamo ancora neanche a buon punto in cui lo spazio nel blocco diventa inutilizzato perché scaliamo sempre di più è lightning è sopra lightning taro è sopra taro questo cazzo e quindi di fatto lo spazio nei blocchi viene oh 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 hai votato taro sopra rgb eh vi lo dico orloschi eh sì no hai ragione a caso l'ho detto a caso comunque la preoccupazione è e nessuno sa rispondere veramente quindi chi lo dice mente lo spazio del blocco è sufficiente per quando ci sarà la massa d'option è troppo poco è troppo tanto bonus come non lo sa nessuno possiamo fare un sarto di un sacco di speculazioni ma non lo sa nessuno questa preoccupazione rispetto a seguit è quella che dice eh ci sarà troppo spazio a disposizione e quindi lo spazio nel blocco si inflazionerà diciamo non verrà usato più e quindi il sistema non può sostenersi con le commissioni on chain siamo veramente lontani da questa situazione secondo me ragazzi supportate il nostro show perché il bitcoin italia podcast vi raccontiamo bitcoin come non ve lo racconta nessuno in italia ragazzi io sfido chiunque a spiegarvi questa questione tecnica bene in maniera approfondita dettagliata ma semplice come guy brush il cagionevole pirata del bip show io sfido chiunque in italia a venire col proprio zaino a raccontarvi l'adozione non sui canali facebook ma venendo qui a vederla verificarla sul campo questo è il plus valore del nostro show www.bip.show sezione supportaci scoprite come potete supportarci se trovate qualcuno che racconta bitcoin come noi ragazzi vi ridiamo i soldi quindi donate copiosi e poi fatecelo sapere se trovate gente più brava noi vi ridiamo i soldi quindi non vi preoccupate supportate il nostro show mi raccomando we are legion il mecenate di questo episodio numero 40 anzi i mecenate sono tutti coloro che hanno partecipato all'hackathon lightning halloween un ringraziamento speciale agli organizzatori ho anche avuto l'onore di fare una ospitata in collegamento purtroppo ma ragazzi l'anno prossimo ci sarò di persona grazie perché in tanti hanno scelto di supportare il nostro show gli organizzatori hanno chiesto al posto di un biglietto di supportare un progetto di divulgazione bitcoin noi eravamo tra le opzioni tutti voi che ci avete supportato con le vostre donazioni lightning siete i mecenate di questo episodio Guybrush adesso prendo la mia nissan lambo qua dalle pendici di santa ana e continuo ad esplorare perché che sia san salvador che sia l'italia che sia ovunque la nostra destinazione è sempre la stessa lo sai qual è no true the moon ciao ricco è morto questa puntata l'italia è l'italia è l'italia Grazie a tutti.